Ciao, sono Matteo Di Verduzzi, il tuo fondivendolo di fiducia. In molti mi avete chiesto di farvi vedere come si puliscono gli agretti, oppure chiamati barba di frate. Questi agretti sono di stagione tra marzo e aprile e si prestano benissimo in cucina, sia per il loro sapore dolciastro, sia per la loro consistenza. Infatti in cottura non si disfano per niente. Ora vi farò vedere in questo video un modo per pulirli e per cucinarli. Solitamente gli agretti si acquistano a mazzi. Adesso iniziamo ad eliminare la radice una per una da ogni ciuffetto. È un lavoro duro, ma darà i suoi frutti. E io di frutti me ne intendo. Una volta raggiunto questo risultato, li laviamo benissimo, perché molto spesso gli agretti contengono molta, molta, molta terra. Io adoro mangiarli cotti al vapore, perché cotti al vapore mantengono intatte tutte le sostanze nutritive degli agretti, che sono pieni di vitamina A, vitamina B e vitamina C. e hanno tantissimi sali minerali come potassio, sodio, ferro. Insomma, una bomba di salute questi agretti. Se non hai la possibilità di cuocere al vapore, ti consiglio di bollirli per massimo 3 minuti. Dopo gli spremi, un limone, un filo d'olio e un pizzico di sale saranno fantastici. Questo è il risultato finale. Siamo giunti al termine di questo video. Se ti è piaciuto, lasciami un like e mi raccomando iscriviti al canale. E se sei interessato a saperne di più su tutto il mondo della frutta e la verdura, seguimi su Instagram. Ciao e al prossimo video!